...che ha poi le idee chiare anche sul ruolo che possono giocare i cittadini in qualsiasi territorio. Nella percezione di sicurezza non è strettamente collegata all'andamento della delittosità. Il cittadino deve avere sicurezza e quello glielo vogliamo garantire. Nello stesso tempo, oggi al sistema sicurezza partecipa anche il cittadino. Informare le forze dell'ordine, consentirci di orientare al meglio il nostro apparato di prevenzione e di repressione. A questo chiediamo ai cittadini e a questo si chiama sicurezza partecipata. Sulla stessa lunghezza d'onda il prefetto che fa esempio ancora più concreti. Determinati fatti criminosi, penso alla rapina di ieri che si è consumata a San Donato di Piave. Poi chiediamo da questo punto di vista, senza che nessuno si senta di fare lo Sherlock Holmes o di appuntarsi una stella da sceriffo, di collaborare maggiormente con le forze dell'ordine, magari segnalando situazioni che possono denotare anche un clima di preparazione. È vero, anche se ogni territorio tende a declinarla a modo suo, in effetti la sicurezza è un'esigenza complessiva del paese. Ad dove c'è una sicurezza complessiva e generale ci sono condizioni di sviluppo economico che non creano contrasti e difformità sul territorio nazionale anche per quanto riguarda quella sicurezza percepita. Una sicurezza che di questi tempi si nutre anche di soluzioni di compromesso. La nuova struttura di Porto Gruaro ha locali sicuramente più accoglienti, ma un ufficio stranieri ancora inadeguato rispetto alle esigenze amministrativiste di 4.500 migranti che vivono nella zona. E mancano ancora camere di sicurezza vere e proprie a causa dei limiti dell'edificio.